Campania di solidarietà, raccolta di viveri. La crisi economica che l'Italia sta attraversando, la disoccupazione, la perdita del potere d'acquisto, investono la popolazione per esposta in modo drammatico e toccano le famiglie senegalesi di Brescia e provincia. Molti uomini e molte donne hanno perso il lavoro e non riescono più a garantire ogni giorno il pane alle loro figlie e ai loro figli. Per far fronte a queste situazioni, l'Associazione dei Senegalesi di Brescia e provincia lancia un appello straordinario alla solidarietà di tutti coloro che sono in condizione di rispondere ed organizza una raccolta di viveri per sabato 25 novembre. Buongiorno a tutti i nostri amici, sono responsabile della comunicazione dell'Associazione dei Senegali di Brescia e provincia. In questo caso, il ha detto che il presidente di Haliouba, ma è la sua attenzione di fatto che ho avuto un video, che ho avuto il nostro sogno di attività di Brescia e provincia. Grazie a tutti i nostri amici, Si raccolgono pasta, riso, latte, caffè, passate di pomodoro, farina, zucchero, biscotti, ragumi, omogenizzanti, olio, tonno ed amico. E' un alto scatolame di prodotto a lunga conservazione. Una spesa solidale per aiutare il tuo fratello è un perdito che fai a Dio, ti ritorna sempre. I punti di riferimento per la raccolta sono da Dudu in via Moretton Brescia, da Tallasilla via Capriolo 22esimo Brescia, da Ristorante Saraba in via Milano 140 Brescia, da Ristorante Lamp Fal in via Filigoni 38 Brescia. Una spesa solidale per aiutare il tuo fratello è un perdito che fai a Dio, ti ritorna sempre.